Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti su un nuovo giochino! Dooner, Doner, Master Simulator, dovrebbe essere una kebaberia, credo, non lo so, vediamo. Io ringrazio gli amici sviluppatori che mi hanno concesso questa key, è un gioco in accesso anticipato solo per PC che trovate lì su Steam. Quindi adesso andremo a provare questo gioco. Prima di cominciare vi ricordo sempre di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina in descrizione i miei social, la mia piattaforma viola dove sono in live tutte le mattine e tutte le sede, e se avete Amazon Prime potete abbonarvi e sostenermi gratis. A proposito di abbonamenti, vi invito a visitare i nuovi abbonamenti per il canale perché avrete tante cose in più, tra cui ringraziamenti nei video, tra cui appunto video in anteprima, video in esclusiva tra cui Radio Robby, tutte le live di Twitch ricaricate senza tagli, gameplay in esclusiva, cioè gameplay di giochi di playlist disponibili solo per gli abbonati. Insomma, andate a dare uno sguardo perché veramente adesso essere abbonati non solo è un sostegno al canale, ma conviene perché vi dà tante cose in più se amate quello che faccio, altrimenti vi perderete tante tante cosine, ragazzi. Detto questo, iniziamo un pochettino a vedere il gioco. E così, ci porta subito all'interno del gioco, go to the Turner Store. Oh, che bella cittadina. Dove siamo, raga? Non lo so dove siamo, forse in America, suppongo. Oddio, le texture, raga, mamma mia. Però vabbè, lasciamo perdere. Allora, dove siamo? Dove siamo? Non lo so, non lo so dove possiamo essere. Però c'ho questo mio negozio, questo mio... questa che babberia, diciamo, che io ho appena comprato. Quindi sicuramente sarà sozza, piena demonnezza e tutta da ristrutturare. Come te sbagli? Come te sbagli? Ma come entro? Sì, clean up the trash, sì, però aprire. Ah, ok, si apriva dall'altro lato. Allora, clean up the trash, clean up the trash, ottenere e... Ah, ok, sì, ma una balla per volta? Ah, un saccone per volta... Un saccone per volta posso raccogliere. E qua ne affittiamo, qua? E qua? Gettare X. Eh sì, ma come... dove l'ha getto? Ah, ok, ognuno c'è il cassonetto suo. Scusate. Ok. Ecco, già sta cosa mi piace poco. Cioè, il fatto di un tasto per raccogliere e un tasto per gettare... Già lo trovo, per uno pigro come me, lo trovo un po' palloso, un po' complicato, un po' macchinoso. Ecco, è macchinoso il termine esatto, non palloso, macchinoso. Allora. Comunque è il tasto E per raccogliere e il tasto X per gettare. Per gettare. Allora. E E X Ok. E E E X Ok, perfetto. Eh, bui... Ok. Cioè, allora, ragazzi, sto gioco diceva che c'era la lingua italiana e invece è tutto in inglese. Altro secondo difetto. Cioè, tu non mi muovi e metti solo i menu in italiano. Continuare, salva il menu e poi lì è tutto in inglese. Ma perché io vado a intuito, non è niente di complesso, dirà... Dirà... Non lo so quello che dirà. Oh, l'aspira su polvere! Eh, guarda come succhia! Eh, come succhia! Succhia pure le impronte! Eh, guardate, guardate, ragazzi, il risucchio! Guardate il risucchio, guardate il risucchio. Il risuc... Risuc... Sì, vabbè, ma non c'è un minimo di suono, sto coso. Risuc... Dai, non c'è... Non c'è un minimo di suono! Vabbè, lo fò io. Lo fò io, lo fò io! Questo è il suono dell'aspirapolvere. Allora... Una pizza sopra lì, ma che è? Sentite come risucchia? Com'è? Qua non pulisce. Ok. Mamma mia, che roba, raga! Che roba! Allora Ma mo qua devo Allora Datemi un attimo che qua A posto Mo come lo mettiamo giusto coso Ok Poi Un'altra monnezza Un'altra monnezza la buttamo La buttamo e adesso è pulito E adesso è tutto pulito No non è il secchio mio Oh raga penso sempre quello è il secchio mio Oh 2000 dollari comunque ci abbiamo Per iniziare non è male Allora adesso dobbiamo comprare Bui my caffè su Bui donor machine Eh Allora Devo comprare su My caffè Su pli Devo comprare su pli Donner machine e freezer Quindi la macchina per fare kebab E il congelatore Open donor machine Ma me l'hanno già consegnato Ah così Pronta consegna Pronta consegna Open Door 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 and machine Aprire Aprire È aperta Che fordì aprire Sto a cliccare Non succede niente Ah ok La devo accende Allora Cut mat Cioè cuoci la carne Credo che voglia dire Oddio Sento l'odorino del kebab Già da qui Aspettiamo che se coce Aspettiamo che se coce Sta bella carnotta Che spettacolo Tiè Che spettacolo Ragazzi Sta più a fame Non guardate sto video Allora di pranzo Perché è la fine Non lo guardate Allora di pranzo Perché è la fine Vabbè Quanto ci mette a coce Sta carne Vabbè Questa potrebbe intimorire i clienti Lasciamola dietro Perché Oh la carne è cotta Che dobbiamo fare La spengo Aprire Ecco Oh raga Mi sei bloccato così il gioco Order not Tab Ok Con tab Si guardano le note Doner Wrapping M Ah ok Per far su Il kebab Ah taglia la carne Oh Ok Ok con il tasto E Tenendo premuto il tasto E Ragazzi eh Pick up tomato Prendiamo un pomodoro Ehm Put de tomato qua Poi No No Mamma mia Allora Ok Mettiamo Erpomodoro No Mettiamo Erpomodoro Dentro Ragazzi Non sono intuitivi Non sono molto intuitivi No No Non sono molto intuitivi No No Non sono molto intuitivi Sti tasti Sì ma Ottenere Prendi il pane Ok E sì Io vorrei 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 metterci la carne Però dentro il pane Scusate eh Allora Sta Fottutissima Sta Fottutissima carne Niente Devo Devo avvolgere Go M Ma non c'è la carne Dentro Che avvolgi Prendi il pane Prendi il pane Avvolgere Taglio e Put donor On try Cos'è try Cos'è il try In un vassoio Ma non c'è la carne Dentro Ma a chi lo servo Che non c'è nessuno Ma a chi lo servo Che non c'è nessuno Sì Ehi fan Divertiti È finito così Brink Ah qui posso cambiare i prezzi Acqua Coca Arancià Allora l'acqua Beh l'acqua 7 Mi sembra troppo L'acqua 5 dollari La coca La mettiamo A 7 Ah lui il rosso Vi dice quando è troppo Ok Quindi caffè a 8 L'acqua La mettiamo a 5 e 6 Do caffè Coca e la coca Il succo Lo mettiamo a 7 e 1 L'arian Non so quello che è Ma la mettiamo a 7 e 2 Ok Poi Questo è Pallarghel negozio Questo è Robby Kebab No aspettate Robby Kebab Robby Kebab Change Change Ma va Allora Poi Il kebab Lo mettiamo a 8 euro e 6 Ok 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 Perfetto Ma c'è solo questi tre ingredienti Solo questi tre ingredienti Sì vabbè Ma possiamo aprire Possiamo aprire Close Open Dai Così vediamo anche i primi clienti Direi che sarebbe pure ora Hello Hello Buongiorno Ma chi è Ma da dove sei entrata Non ti ho visto Vabbè Abudabudabu Abudabudabudabu Abudabudabudabu Single bread Donner Allora Tavolo 4 Single bread Donner Only salt And meat Solo sale E carne Eh Da bere acqua Ok Allora Tanto Sì, però Scusatemi, come Scusatemi Acqua E acqua E acqua Un'acqua Perché la signorina vuole l'acqua Il sale Perché la signorina vuole il sale E poi, poi Market, ok Poi, lattuga Questa cosa qui, carne Ok, è un Kebab, ora, quando io Compro tutto, come mi arriva? Come mi arriva Quando io compro tutto? Come mi arriva? Mi arriva già qua in negozio? Ad esempio l'acqua tu sta Mi arriva già in frigo? Sì, corca La roba tu sta Sta sul retro Ah, eccola, sta sul retro Allora, il sale Il sale Il sale Se sì, lo so Se illumina tutto, raga Che devo fare? Se illumina tutto Il sale L'acqua Come se piglia Come se piglia l'acqua Non se piglia l'acqua No, raga, è baccato Non ci posso credere Come se piglia l'acqua? Ecco, l'acqua L'acqua La metto qua Ok, una bottiglietta d'acqua Allora Sì, come faccio io a servire la signorina? Perché cammina l'acqua? Perché l'acqua cammina da sola? Gliela devo dare così, con tutta la cassa? Oppure, oppure sul vassoio Allora, io prendo un vassoio E ci metto l'acqua Oh, oh Raga, non so come... Ah, l'acqua in frigo Ah, ecco, 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 ecco L'acqua in frigo Spiegatele un po' le cose, però, eh Sì, vabbè Se è fatta notte Intanto quella sta aspettando Allora, se è fatta notte Allora Mo prendiamo Una Lompar de ciufoli Allora Mo mettiamo questa qua Lei ha detto Io voglio solo la carne Ma la carne a me Non me la fa mette Forse ci va il kebab sotto? Per mettere la carne? Cioè, per mettere la carne Come si fa? Ragazzi Non c'è verso Da acchiappare la carne Eh sì Sai il baba Sai il baba Allora Non c'è verso Di prendere la carne Oh, porca cazzozza Proviamo con un vassoio Senti Ma se gli do questo Gli do questo senza carne E Una Allora Ragazzi Sto gioco deve migliorare tantissimo Però, eh Tornato il vassoio Che cosa sta succedendo? Che cosa Che cosa sta Boing 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 Oddio Che è? Catwoman Che chi è? Se n'è nata Ragazzi abbiamo dei piccoli problemi Ragazzi abbiamo dei piccoli problemi Ok Tutto a posto Ragazzi io mi auguro che questo gameplay sia stato di vostro gradimento Io sto cercando un attimino di capire Come risolvere questo piccolo problemino Cercheremo di risolverlo Vorrei anche un po' capire come raccogliere la carne una volta tagliata Grazie a tutti Sì Signorina abbiamo dei piccoli Signorina abbiamo dei piccoli problemi Signorina Adesso non la possiamo servire Mi auguro che questo gioco sia stato di vostro gradimento Lasciate un like per i vassoghi saltellanti E noi ci vediamo ai prossimi video Ciao Ciao